Sì, Rodato, Gesù Cristo, visto che parliamo della preghiera oggi, Signore, approfondiamo un po' questo aspetto che è essenziale e fondamentale per la vita cristiana, per la nostra vita spirituale, che ci assicura poi la vita eterna. Ora Gesù Cristo ci assicura che chi domanda riceve e noi di fronte a questa assicurazione ci disorientiamo perché ci sembra che quasi venga l'opposto. Io chiedo una cosa e poche volte sembra che sia una idea proprio quello che ho chiesto. Quindi chiediamo, non ci è dato nulla, cerchiamo e non troviamo, bussiamo e non ci viene aperto. Così diciamo noi tante volte prima e dopo aver pregato o può succedere che avvenga. È raro trovare una persona che non rimanga almeno qualche volta scettica di fronte all'efficacia della preghiera ed è ugualmente raro trovare uno il quale confessi di aver pregato male. Cioè, è il Signore che non mi ascolta, non so io male che ho pregato male, no? Ed io quindi non aver meritato la grazia. Questa è una cosa penosa, sfruttata mille volte da Satana per allontanarci dalla preghiera. Eppure Gesù Cristo ci illumina su queste interessanti questioni con le stesse parole con le quali ci mostra certezza dell'effetto buona della preghiera. Se un figlio domanda del pane al padre, questo dirà un sasso? E così via, come abbiamo ascoltato. Dunque è evidente. Il Padre Celeste ci esaudisce quando noi domandiamo il bene, il vero bene, anzi, come aggiunge Gesù, quando domandiamo lo spirito buono letteralmente, cioè la grazia di una santa vita e le grazie per l'anima. Invece spesso domandiamo la salute, i soldi, se no guarisci questo, guarisci quell'altro, nipote, figli, insomma, eccetera, eccetera. Che sono anche cose per carità da chiedere, ma chiediamo veramente la grazia di una vita santa, chiediamo allo spirito santo che ci converta, che ci conformi, eccetera, eccetera. Adesso mandiamo avanti. Il Redentore non poteva contraddirsi. Se disse una volta che bisognava cercare il regno di Dio e la sua giustizia perché il resto ci sarebbe dato in sovrappiù, non poteva promettere l'efficacia alle preghiere fatte unicamente in vista dei beni temporali. Noi poi in realtà siamo figli che, un po' incoscienti, a volte ingrati, che domandiamo il sasso, il serpente, lo scorpione al luogo del pane, del pesce e dell'uomo. E se il padre ascolta il figlio che gli domanda il bene, non ascolta proprio per bontà ed amore colui che gli domanda il male. L'espressione di Gesù quindi può capovolgersi. La vera profonda ragione per la quale non siamo esauditi nelle preghiere è il nostro spirito cattivo invece dello spirito buono. Abbiamo poca fede, non confidiamo abbastanza in Dio e magari non amiamo come dovremmo. Abbiamo una grave somma di peccati passati, quasi sempre impuri, e di peccati presenti che sono di impedimento alle grazie. Manchiamo di carità verso il prossimo spesso e non pensiamo che Dio ci tratta come li trattiamo gli altri. La misura in cui misurate sarà voi misurato in cambio, giusto? Ci dice il Signore, mi sembra che sia Vangelo e Matteo, capitolo 7. Manchiamo di semplicità, di abbandono in Dio. In realtà quando domandiamo abbiamo sempre qualche volta un certo pregiudizio contro di Lui. Preghiamo ma senza uscire dall'ambito della nostra miseria. E siamo come aeroplani che rompono ma non si sollevano dal suolo, come ruote che girano ma la macchina, ecco, non va avanti. Quindi parliamo molto con noi stessi, promare con Dio poco o meno, e diciamo parole e distrazioni che la noia rendono anche vuote di significato. Se parlassimo invece veramente a Dio, questo dialogo amoroso e confidente con Dio come hanno fatto i Santi, vedremo anche, non solo adesso ascoltando, ma vedremo anche i miracoli delle nostre preghiere. I Santi ce lo confermano. Quindi invece di dire che la nostra orazione è vana, dovremo piuttosto riconoscere con l'umiltà che noi non chiediamo, non cerchiamo e non bussiamo. Si chiede con insistenza di figli, si cerca con la fiducia di amici, si bussa con l'umiltà di sudditi e si va a Dio con la certezza della sua misericordia. Ecco, non si può prescindere da questo. Quindi dobbiamo credere che Gli può, efficacemente, completamente, che Lui può disporre tutto con sapienza, amore e vuole il nostro vero bene. Quindi se noi prescindiamo da questa posizione dell'anima nostra, la nostra preghiera viene mutilata, diciamo, viene resa vana. Quindi quello che è nuoce la nostra preghiera è questo paradosso pratico. Pretendere di andare a Dio rimanendo in noi. Questa è una cosa molto sottile, no? Don Dolindo, Ruoto, che ce la spiegano. Pretendere di andare a Dio e rimanendo in noi. Di appellarci al suo intervento, confidando unicamente le nostre forze, in quelle degli uomini. Di muovere, diciamo, la sua potenza, ma in certo qual modo rinegandola. La sua sapienza, ma ritra le mormorazioni, come gli ebrei in deserto, e il suo amore magari quasi qualcun candolo. Quindi quante volte noi preghiamo con questo spirito, con lo spirito, non lo spirito buono, lo spirito, tra virgolette, cattivo. Quindi se Gesù Cristo del resto ci dice con tanta certezza che chi prega è esaudito, quando non siamo esauditi dovremmo dire con altrettanta certezza che o non abbiamo pregato o abbiamo pregato male. Quindi l'insistenza a continuare preghiera, tra l'altro, che è una condizione in presci di presse esauditi, non serve tanto a Lui, ma serve a noi per orientare l'anima nostra a Lui. Ma questo deve essere fatto con insistenza e non con desistenza. Anche questa è una riflessione molto importante. Noi abbiamo infatti l'abitudine di cominciare a pregare con entusiasmo naturale che possiamo scambiare per fede, con una certa presunzione che magari crediamo speranza e con un po' di fervore sensibile che stimiamo, carità, amore. A misura che passano i giorni decadono queste disposizioni e quindi all'entusiasmo subentra la stanchezza, alla speranza, alla fiducia, al fervore, alla tiepidezza. La preghiera mano a mano si spegne come un lucignolo senza olio, fumiga nelle impazienze e muove tante volte i nati di vera e propria miscredenza. Ora noi domandiamo invece a Dio dobbiamo chiedere lo Spirito buono che è lo Spirito Santo che è frutto proprio dell'infusione dello Spirito Santo in noi e cerchiamo di orientare Lui tutta la nostra vita. Non si può pregare solo con la bocca o debolmente col cuore, tutta l'anima nostra dovrebbe, deve pregare anche tutto il nostro essere, rimanendo fedeli certamente ai nostri doveri, ma cercando il Regno di Dio, la Sua giustizia sopra tutte le altre cose. Dobbiamo guardare alla vita eterna soprattutto, ecco, il Paradiso poiché la massima parte della nostra preghiera Dio le ascolta in ordine a questa meta suprema. Questo un po', diciamo, il segreto, no? Condizione che sia la Sua volontà perché Dio guarda per l'eternità più che per le cose temporali. Ora nel cielo vedremo i ricami del Suo amore e ci accorgeremo che nessuna preghiera è stata perduta, anche quelle che abbiamo pregato un po' male così. ma Lui ci ha donato le sue grazie in modo particolare. Per esempio, noi cerchiamo la provvidenza e invece abbiamo la povertà perché è quella che veramente ci giova. Cerchiamo un posto di lavoro e rimaniamo disoccupati perché il posto come lo cerchi tu potrebbe portarti fuori strada. Cerchiamo la gloria nostra e abbiamo l'umiliazione invece perché è questa che ci porta poi alla vera gloria del Paradiso. Quindi qua, eccetera, eccetera, quante di queste false posizioni Dio raddrizza e quanto dobbiamo essere lì grati nelle stesse delusioni che crediamo avere quanto preghiamo. Santa Resina, io prego il Signore se mi esaudisce bene se mi esaudisce bene lo stesso perché ho fiducia totale in Lui. Che quello mi dà o mi non dà o non mi dà è perché è sempre secondo il Suo amore quindi io non mi smuovo rimango sempre in pace perché so ho fiducia totale in Lui quindi se chiedo una cosa sempre il mio bene me la dà se no ecco, vuol dire che non è o non è ancora il tempo di darmela o magari proprio quello che chiedo non è per il mio vero bene. E poi l'ultima cosa ecco l'ultima difficoltà a volte domandiamo veramente Dio proprio lo Spirito buono lo Spirito Santo chiediamo la virtù la perfezione e ci parla un essere esauditi ora anche qui fallisce la parola di Gesù rispondiamo prima di tutto fa esempio con un paragone la pompa aspirante toglie l'acqua dalla stiva ma il marinaio pompa e la stiva tuttora lagata quindi è vana la pompa? No è appena sufficiente a controbilanciare la falla e l'acqua che per essa gli rompa nella stiva altro esempio la spazzola pulisce l'abito ma se l'abito è ingrassato infangato non basta una passatina ancora un lavoro che richiede del tempo il fuoco riscalda l'acqua sì ma se invece dell'acqua c'è il ghiaccio un chilogrammo di combustibile è appena sufficiente a sciogliere però l'acqua rimane sempre fredda appena tiepida tirando la corda si apre l'imposta ma se c'è una mola di compressione al battente l'imposta si chiude esempi semplici però pratici per capire quindi dice cosa si intende noi desideriamo lo spirito buono ma non ponderiamo la cattiveria che lo controbilancia vogliamo purificarci questo è un po' da sottolineare ma rifugiamo da quei mezzi radicali ed energici che ci fanno veramente bene vogliamo il fervore ma non misuriamo lo spessore del nostro gelo interiore quindi in pratica vorremmo una perfezione ad uso e consumo nostro senza rinunce e senza benegazioni vogliamo medicare noi le nostre piaghe senza cauterizzanti ma col balsamo che carezza l'orgoglio e la natura vogliamo dirci anche questa interessante vogliamo dirci noi le insulenze ah io sono così sono quella sono quella ma non tolleriamo che ce le dicano gli altri neppure con la riduzione del 99% su quelle che diciamo noi giusto vogliamo insomma ascendere sì ma rimanendo dove siamo e vorremmo portare con noi tutto il nostro bagaglio la preghiera quindi non è vana ma è come la pompa che combatte contro le falle produce il frutto ma esso non è sensibile significa che non c'è un dislivello spiritualmente parlando tra la natura e grazia chissà dove andrebbero certe anime se non pregassero e chissà dove riporterebbero la loro natura se lo domandassero a Dio anche con queste forti e principali riduzioni lo spirito buono quanti voli veri di santità farebbe un'anima se domandando lo spirito buono si abbandonasse veramente all'azione della grazia la natura a volte ci inganna e noi pur pregando per essere perfetti abbiamo delle zone dello spirito nelle quali non vogliamo che vi penetri la grazia facciamo come Giona ci imbarchiamo su navi in tempeste e fuggiamo dalla faccia di Dio o dormiamo sulle nostre ripulse a divina volontà e ci lamentiamo di non progredire se sapessimo gettarci in pieno nell'oceano del divino amore dove ci porterebbe la sua grazia e di quale santità saremo capaci quindi preghiamo preghiamo non stanchiamoci di pregare ma lasciamo a Dio la cura di esaudirci come e quando egli crede preghiamo anche per le cose temporali certamente lasciando però a lui la cura di misurarci nella razione secondo ciò che ci è utile per la vita eterna e penso a diamoci che Dio ci è padre che qualunque sia la nostra preghiera non può che darci il bene chiudo con un esempio proprio di San Giovanni Paolo secondo riguardo anche la rassegnazione alla divina volontà alla volontà di Dio ecco nella preghiera lui scrive così se lo trovo ecco il Papa Giovanni Paolo II racconta dopo termino di come rimase impressionato dall'allegria di un uomo incontrato in ospedale di Varsavia dopo l'insurrezione di quella città durante la seconda guerra mondiale era gravemente ferito tuttavia la sua straordinaria felicità era palese quest'uomo è arrivato a felicità commentava il Pontefice per qualche altra strada perché visibilmente giudicando il suo stato fisico dal punto di vista medico non vi erano motivi per essere così felice sentirsi così bene e di considerarsi ascoltato da Dio eppure eppure è stato ascoltato in un'altra dimensione della sua umanità nella dimensione in cui la volontà di Dio e la nostra si identificano pertanto ciò che dobbiamo chiedere e diserare è fare la volontà di Dio sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra è sempre questo il mezzo per riuscire la migliore strada immaginabile dato che ce l'ha preparata il Padre nostro Celeste dirgli Signore non voglio nient'altro che quello che tu vuoi persino ciò che stiamo chiedendo in questi giorni se ci allontano minimito della tua volontà non darmelo Signore perché dovrei volerlo io se tu non lo vuoi tu vedi più lontano di me sia fatta dunque la tua volontà allora chiediamo Maria Santissima ecco sostegno della nostra fede che a volte è debole e vagilante che per la sua intercessione in quanto me la dice te le grazie possa irrobustirla possa darci questa confidenza che aveva totale lei di essere ascoltata da Dio perché lei sapeva che tutto il suo cuore era rivolto a lui quindi tutto quello che chiedeva a Dio se fosse ascoltato lei chiedeva sempre il bene il suo bene chiedeva sempre la sua volontà se noi chiediamo sempre la sua volontà allora saremo sempre ascoltati allora a questo tutto questo fidiamo il suo cuore immacolato signor lodati Gesù e Maria grazie a tutti